Sai quando ti rende il rambo? Non devi solo alzare la cima del piede e far così alzare la cima del piede e vedi che ti passa quando ti viene il rambo nelle gambe non massaggiarlo devi solo alzare così cioè alzare la punta prova come fai ecco, fai così vedi che ti passa il rambo davvero eh? perché mi hai trasmesso questa nozione? perché l'altro giorno c'avevi il rambo e fregavi l'altro giorno? l'altro giorno hai detto che rambo, che rambo e ti sei massaggiato no, non devi massaggiarti ma devi alzare la cima così no scusami cos'è che ho detto? che avevo un? un grampio, un grampio cos'è che c'avevi? hai usato sette nomi diversi un rampo, un grampo un rampio scegli e la defini l'ultima aia mi è venuto un? crampo non te lo dico più crampo luigina crampo crampo un rampo oh luigina come faccio adesso? eh? cosa facciamo? adesso mettiamo dentro mettiamo dentro mettiamo dentro mettiamo dentro